Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Silvio Berlusconi che la convinse a abbandonare gli incarichi di manager per prestarsi alla politica. Due settimane fa l'Italia dava l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi con l'eseguo di Stato al Duomo di Milano. Passata l'onda emotiva, le chiedo Moratti, che cosa mancherà di più all'Italia del Cavaliere? Io credo che il Presidente Berlusconi sia stato un grande innovatore in tutti i campi. Lo è stato nell'ambito della comunicazione, dello sport e della politica. È stato un uomo coraggioso, è stato un uomo che ha inciso profondamente nella politica nazionale. Credo che mancherà la sua capacità di mediare. Lui è stato capace di mettere insieme forze politiche molto diverse dalla forza politica allora di Bossi, della Lega, con quella di Fini e passando per gli allora democristiani. Quindi una capacità di fare sintesi. Credo che sia un valore che naturalmente è un valore che è importante anche oggi. Silvio Berlusconi è stato per vent'anni il punto di riferimento dell'elettorato moderato e questo è stata la sua Forza Italia. Lei cosa vede nel futuro di Forza Italia senza il suo fondatore? Oggi Pagnoncelli in un sondaggio fotografa come circa il 30% dell'elettorato di Forza Italia sia già pronto a trasferirsi verso Fratelli d'Italia. Non esiste più i moderati o non esiste più un punto di riferimento per i moderati? No, io credo che continuino a esistere la necessità di dare punti di riferimento ai moderati, quindi a tutta quell'area che si ritrova nei valori liberali, popolari, socialisti e riformisti. Quindi si tratta di capire chi saprà rispondere a questo elettorato, a questa esigenza. Però Pagnoncelli nella sua disamina parlava anche del fatto che, se non ricordo male, comunque uno su due degli intervistati pensavano che comunque Forza Italia avrebbe continuato il suo percorso. Quindi siamo sicuramente in un momento di evoluzione, in un momento di cambiamento, un cambiamento comunque profondo, un cambiamento che tocca tutta la società. Lei si pone la questione chi potrà raccogliere quella eredità di Berlusconi nel rappresentare il voto moderato. L'ultimo suo incarico pubblico è stato quello di Assessore alla Sanità in Lombardia, nella giunta di centrodestra, nella fase più complicata della pandemia. Poi ha sancito il divorzio dal centrodestra e si è candidata assieme al terzo polo. Lei crede che Matteo Renzi abbia le carte in regola per raccogliere l'eredità di Silvio Berlusconi? Io mi sono candidata con una lista civica, quindi non ho minimamente rinnegato la mia storia politica. Io credo che l'eredità di Berlusconi sia un'eredità che va raccolta da tutti coloro che si ritrovano nei valori che ha portato avanti il presidente Berlusconi. Quindi da tutti noi, ma lo dico in maniera estremamente allargata, che abbiamo creduto e crediamo in questi valori, valori popolari, liberali, riformisti, socialisti. Anche al di fuori quindi del perimetro classico del centrodestra, quindi ci potrebbe essere anche una chiamata a Matteo Renzi, secondo lei? Io non voglio escludere che ci possano essere delle evoluzioni in questo quadro politico che sicuramente vede un'opportunità, che è quella di dare più voce, perché non è vero che non abbia voce questa parte di liberali, moderati, eccetera. Ce l'ha, ma magari poter allargare e dare più voce, quindi questo è possibile. Ho un'ultima questione... Lo vedremo, lo vedremo nei prossimi mesi. Ho un'ultima questione che non riguarda tanto l'eredità di Silvio Berlusconi, ma la memoria di Silvio Berlusconi. Peraltro è notizia di poche ore fa che il murales dedicato a Silvio Berlusconi nella via di Milano, in cui era nato via Volturno, è stato cancellato dagli addetti del comune di Milano. Subito dopo la morte del Cavaliere, tanti amministratori si sono precipitati a stilare delle delibere con intitolazioni di vie o di piazze, il sindaco di Milano ha detto «Nella mia città vale la legge, non si fanno intitolazioni prima dei dieci anni dalla morte». È d'accordo? È stata fatta una sola eccezione a questo. Comunque credo che ci possono essere altre intitolazioni che possono essere date in memoria del presidente Berlusconi. Il gruppo consigliare che fa riferimento a me ha presentato un ordine del giorno, una mozione, che è passata in Consiglio regionale per intitolare l'aeroporto di Valpenza al presidente Berlusconi. Quindi il presidente Fontana ora invierà all'Enac, che poi è quella che ha l'ultima parola, questa proposta che è passata in Consiglio regionale, pur con una maggioranza non rispondente all'attuale maggioranza di Giunta. Quindi con l'astensione della Lega e della lista che fa riferimento al presidente Fontana. Meglio l'aeroporto del Nord, insomma, che è una via qualunque di una città, dice Letizia Moratti. Sono passati oramai otto mesi dalla salita a Palazzo Chigi della prima presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lei che giudizio dà di questa Italia di Giorgia Meloni e dell'atteggiamento che Giorgia Meloni porta a sostegno dell'Italia nei tavoli europei? Io credo che sia importante avere un presidente del Consiglio che in Europa difende gli interessi nazionali. Ci sono troppi dossier europei che non rispondono agli interessi della nostra nazione. Cito il tema dell'automotive, cito il tema del packaging, cito le tematiche che riguardano anche le industrie farmaceutiche che nel nostro Paese creano un valore, sono importanti. Quindi avere un presidente del Consiglio che difende i nostri interessi, gli interessi nazionali in Europa, è assolutamente importante. Questo vale Moratti anche per questo atteggiamento attendista nei riguardi del MES. La ratifica del trattato del MES anche da parte dell'Italia, l'unico Paese che ancora non l'ha ratificato è contro il nostro interesse nazionale. Guardi, io credo che l'Europa richieda, per poter incidere in Europa, bisogna avere delle alleanze. Le alleanze si formano sui singoli dossier, è difficile formare alleanze a pacchetto. Quindi il presidente Meloni, per esempio, per quanto ha riguardato l'approccio che ha avuto nei confronti dell'accordo con la Tunisia, a mio avviso ha avuto un approccio corretto. Quindi è riuscita ad avere in Tunisia con lei la presidente della Commissione europea, Van der Leyen, e addirittura il premier olandese, che non è mai stato un primo ministro particolarmente condiscendente e generoso sul tema migranti nei confronti dei paesi di primo approdo. Quindi un approccio diplomatico, un approccio che ha cercato di costruire un'alleanza. Un'alleanza non facile, perché ancora oggi il tema dell'accordo con la Tunisia non è ratificato dall'Europa, perché alcuni paesi vogliono collegarlo alla ratifica dell'accordo col Fondo Monetario Internazionale. Altri paesi come la Germania chiedono che il presidente tunisino faccia un chiaro statement, una chiara presa di posizione sul tema dei diritti. Però l'approccio del presidente Meloni è stato un approccio diplomatico e di ricerca di alleanza. Da ex presidente della RAI, ho capito che apprezza anche il piglio insieme diplomatico, ma ha deciso di Giorgia Meloni nei tavoli europei. Per venire alle cose di casa nostra, lei che ha guidato la televisione pubblica, le piace questa nuova RAI targata destra-centro, anche se ha perso alcuni volti importanti? Penso a Fabio Fazio, penso a Lucia Annunziata. Io credo che il tema principale in questo momento della RAI sia come far fronte a un problema che potrebbe avere se passa la politica che vorrebbe togliere il canone RAI dalla bolletta. Perché già la RAI adesso è in perdita, non ha una perdita significativa, ma comunque è in perdita. Il canone rappresenta il 73%, se non ricordo male, degli introiti televisivi. Quindi avere un canone staccato dalla bolletta significherebbe indubbiamente avere un'evasione maggiore. Quindi credo che il principale problema della RAI in questo momento sia come far quadrare i conti. Allora, questa è la visione della donna manager, però si è parlato tanto, dirai, anche rispetto a dei nuovi valori che deve veicolare la televisione pubblica, una sorta di nuova televisione pedagogica. Le faccio sentire un passaggio di un intervento di Giorgia Meloni. E' come se noi considerassimo la droga alla stregua di una calamità, alla stregua di qualcosa che è imprevedibile, che è imprevisto, che è inevitabile. Quello che accade è stato banalmente tollerato, banalizzato, quando non addirittura propagandato. Questo governo non intende voltarsi dall'altra parte, non intende ignorare questa emergenza, ma la vuole affrontare con coraggio e con determinazione. Una politica che ai giovani non riesce magari a dare risposte adeguate sull'istruzione, a dare risposte adeguate sul lavoro, e che in cambio dice, vabbè, però fumati una canna, non sarà mai la mia politica. Giorgia Meloni se l'è presa con serie televisive che esaltano il ruolo dei narcotrafficanti e si pone invece l'obiettivo di fare una televisione che veicoli valori positivi, a partire anche da quello della promozione della natalità. E' questo l'obiettivo di una televisione di Stato? Io credo che la televisione di Stato abbia diversi obiettivi, sicuramente un obiettivo è quello di fare cultura. Non dimentichiamo che la televisione di Stato è stata quella che ha aiutato l'unificazione anche della lingua, quindi una televisione di Stato che faccia cultura è fondamentale. Io credo che dovrebbe anche porsi il tema di essere un'azienda che produce, quindi Rai potrebbe essere tra le prime, lo è stata nel periodo passato, tra le prime 20 aziende produttrici di contenuti, ecco noi produciamo pochi contenuti e quindi una valorizzazione anche delle produzioni italiane, una valorizzazione per esempio del turismo attraverso la Rai, sicuramente fanno parte del DNA di una Rai che è pubblica, che quindi al di là degli spettacoli di intrattenimento, al di là dei talk show, a mio avviso deve anche dare contenuti che siano contenuti da servizio pubblico. Io ricordo, ma poi chiudo, io ho riportato in Rai il teatro, ho aperto il segretariato sociale in Rai, ho favorito produzioni nazionali che sono state di grande successo come il maresciallo Rocca, quindi c'è tanto che la Rai può fare per adempiere la propria missione di servizio pubblico. Ho le ultime due questioni per lei, la prima riguarda il ministro che siede in quella poltrona che fu da lei occupata, quella della pubblica istruzione. Lei crede che sia giusto che un ministro intervenga nella decisione del Consiglio di classe perché ritiene sbagliato che dei bulli, in questo caso due ragazzi di una scuola di Rovigo che avevano preso a pallini di una pistola d'aria compressa un insegnante, ricevano dei voti troppo alti sulla condotta? Io credo che la libertà degli insegnanti è un valore naturalmente da mantenere e credo che questo sia naturalmente l'obiettivo anche dell'attuale ministro. Credo che delle posizioni di principio che comunque indicano dei valori, indicano un percorso, siano posizioni che un ministro può prendere. In questo momento a un ministro, Daniela Santanchè, vengono contestate sia sul fronte giudiziario che delle inchieste giornalistiche una serie di irregolarità riguardanti la sua precedente attività di imprenditore. Chiedere un passo indietro a Daniela Santanchè sarebbe un modo per venire meno ai principi del garantismo o trattandosi di una figura di governo per tutelare il Paese l'opportunità consiglierebbe un passo indietro? Io credo che sia giusto attendere le comunicazioni che il ministro Santanchè ha già detto di fare la settimana prossima. Credo sia giusto attendere quelle che saranno le conclusioni dell'indagine della magistratura. Quindi questa è la mia posizione. Da ultimo, lei ha avuto modo da assessore alla salute della regione Lombardia di avere rapporti molto stretti con il generale Figliuolo. È la persona giusta per la ricostruzione in Emilia-Romagna o l'imposizione di una figura estranea al territorio tradisce una volontà centralistica, come dice Stefano Bonaccini? Io credo che le due nomine che ha fatto questa settimana al governo quindi sia il generale Figliuolo come commissario per l'Emilia-Romagna sia Panetta per Banca d'Italia siano due nomine eccellenti quindi sono certa che il presidente Bonaccini collaborerà col generale Figliuolo perché è molto facile collaborare col generale Figliuolo. Io ho avuto l'esperienza felice di una grande collaborazione che mi ha aiutato tantissimo. Una persona che è sempre presente, sempre sul campo, sempre attenta che ha sempre risposto e penso che come me avrà avuto chissà quante richieste telefonate da parte di tutti noi assessori, dei presidenti delle regioni quindi due noni viene sicuramente di due grandi professionisti. Ha inannellato una serie di giudizi lusinghieri nei riguardi di Giorgia Meloni e del suo operato. Letizia Meratti continua a considerarsi senza alcun dubbio una donna di centrodestra? Sì, non sono sempre stata quindi non vengo meno a quelle che sono, diciamo, che è la mia storia. Grazie, grazie Letizia Moratti. Noi ci dobbiamo...